Sai, ho approfittato per passare per la prima volta il confine che non c'è più e ho fatto bene perché, ripeto, mi sono proprio emozionato perché, sai, i confini mi hanno sempre dato fastidio e poi, sai, io conosco molto qua, venivo tanti anni fa a Cerso, a Caccia per cui conosco queste zone in maniera molto particolare e poi venivo sempre in barca, insomma, sai, conosco molto bene queste zone oggi aveva trapassato un confine che non c'è più è stata veramente una grande emozione